bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime notizie per quello che riguarda il futuro di fortnite appaiono delle cose nelle sezione news ufficiale della lobby parleremo dei film che si trasmetteranno sul party royal vedremo una nuova location e delle curiosità davvero incredibili per questa season prima però volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator nello shop xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora non perdiamo tempo e andiamo direttamente al primo argomento di oggi e non poteva che essere la notizia di punta per ogni volta che aprite fortnite not cinema film sul grande schermo guarda uno dei tre film di registra christopher nolan disponibile in versione completa sul grande schermo venerdì 26 giugno essi ragazzi perché facciamo un attimo il punto della situazione di quello che sta per succedere domani domani allora numero uno ragazzi domani quindi venerdì alle 3 del mattino non sabato alle 3 del mattino venerdì alle 3 del mattino ci sarà in diretta il concerto di diplo che si intitola thomas weasley no non so penso che sia quello il nome insieme a diplo ci sono due gastar noah cyrus come non so come si pronuncia youtube nel senso non non so come si pronuncia come vi sto per far vedere in questo momento 26 giugno alle 3 del mattino lo spettacolo in diretta e solo un'unica replica lunedì 29 giugno alle ore 18 quindi se non volete rimanere svegli così tardi nella notte avete una sola chance di rivederlo nel party royale appunto lunedì 29 ma non è finita perché ci anticipavano ieri che ci sarebbe stato qualcosa dedicato al cinema ed ecco qua una trilogia di film che verranno trasmessi in forma completamente integrale nel party royale inception batman begins e the prestige che sono tutti e tre ovviamente diretti da christopher nolan il problema la cosa un po brutta è che non li potremo vedere tutti e tre in base alla regione di dove vive un giocatore verrà trasmesso un film e a noi ragazzi è toccato inception che sarà trasmesso venerdì 26 giugno alle ore 11 del mattino con una replica per venerdì 26 giugno alle ore 23 quindi se volete vedere completamente il film vi basta recarvi nel party royale e andare dove è indicato in quel momento in quel posto lì il cerchio quindi dove c'è il palcoscenico in poche parole e potrete vivere una una sessione di concerto oppure vedere un film insomma tanta tanta roba per questo party royale che secondo me è veramente una cosa geniale per quello che riguarda fortnite e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo annunciare anche se tutti o meglio molti di voi lo sanno che dal primo luglio si entrerà ufficialmente nella seconda fase della season 3 quindi vi ricordo che questa season è divisa in otto fasi e come ci suggerisce direttamente un paio di suggeriscono un paio di stringhe nei codici alle ore circa dovrebbe essere dalle tre alle quattro del mattino calcolando il fuso orario del primo luglio questa sarà la mini mappa una volta che la apriremo come vedete nella parte in alto ci sono delle terre emerse un pochettino più visibili vi ricordo che è la prima fase quindi piano piano riemergeranno tutte le terre che siamo abituati a vedere nella mappa della season 2 e quindi anche le location tanta tanta roba perché ci sta poi tornare a giocare con meno acqua davvero molto divertente e davvero una genialata avere poi così tante location nuove tra l'altro questi sono una serie di stringhe dei codici del gioco e tutti quelli evidenziati fanno riferimento all'aggiornamento della mini mappa cioè ogni volta che cliccate il tasto per aprire la mini mappa questo vuol dire che 2467 più quella che stiamo giocando adesso 8 come vedete ragazzi sono già tutte pronte le varie fasi piano piano ovviamente le scopriremo e verrà aggiornata anche la mini mappa quando la aprirete andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle curiosità 5 curiosità che forse non tutti hanno ancora notato in questa nuova season di fortnite oramai già otto giorni circa che ci stiamo giocando 7 no non lo so una settimana la prima ragazzi è la chiesa di deadpool se andiamo nel vecchio yacht di deadpool al suo interno troveremo una chiesa con tanto di candele e panche e la al posto di chi ci dovrebbe essere c'è appunto un suo poster una cosa davvero molto divertente molto curiosa optimus prime guardando vi c'è sotto l'acqua me mi sembra nella parte alta a sinistra della mappa insomma dove ci sono tutte le terre sommerse per intenderci troveremo un gigantesco robot formato da macchine potrebbe essere quasi certamente è un un omaggio a optimus prime quindi tanta tanta roba e vi ricordo che abbassandosi il livello dell'acqua quasi certamente verrà a galla anche questo robottone poi lo potremo guardare con calma durante le partite la sedia di mida c'è una location vicino a foschi che a me piace particolarmente per scendere in arena che è quella specie di non saprei come dire una specie di storage box dove ci sono tutti i garage dove c'è anche la macchina per potenziare le armi c'è un box pieno di bancali c'è un box dove al suo interno è presente la vecchia sedia d'oro di mida quella che si vedeva nel trailer del capitolo 2 che è stato un po spostata in tutta la season 2 gli è stata rubata l'hanno caricata sui camion l'hanno portata in giro ed è ancora presente dentro questa scatola il toilet man perché se nella precedente season avevamo i tube man quindi gli uomini quelli formati dai tubi questo giro invece abbiamo l'uomo formato dai water si sa bene il motivo del perché anche questo lo trovate nelle parti in alto della mappa vediamo se si muoverà durante la season io vi farò vedere ovviamente tutte le immagini delle modifiche e per concludere invece la ria pacificazione tra gli ignomi e gli orsi che hanno fatto parte delle sfide segrete della scorsa season 40.000 punti esperienza per ogni sfida ed erano 5 o 7 non mi ricordo con precisione e finalmente sono tutti belli ria pacificati dopo aver firmato appunto il trattato di pace nell'ultima missione anche in questa season continua ovviamente la tregua e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una cosa veramente importante come vi avevo già anticipato ci sarà poi tutto un discorso legato ad acqua man adesso ancora un po presto per parlarne anche perché non sono presenti delle immagini ufficiali se non la base di quella che sarà una nuova location dedicata ad acqua man che si chiamerà the ruins le rovine un po come lo yacht è stato dedicato a deadpool nella precedente season la cosa molto interessante è che nei file di gioco è stata trovata questa stringa che si chiama ambient volume biome atlantis quindi il biome che sarebbe penso si pronunci così che non è altro che appunto la location come la chiamiamo noi si chiamerà atlantis nei file di gioco poi verrà trasformato con il nome the ruins quindi le rovine ovviamente per non fare riferimento probabilmente esplicitamente ad atlantide è il che potrebbe appunto essere tutto un discorso che si creerà intorno alla skin di acqua man non sappiamo ovviamente cosa hanno intenzione di fare ma sappiamo che arriverà un ulteriore nuova location e per concludere ci sarà anche una skin femminile dedicata perché quasi è certamente sarà così in quanto nei file è presente una stringa che dice female medium lady atlantis head potrebbe essere una skin o potrebbe essere semplicemente una testa di una statua messa lì non lo sappiamo però questo è stato scoperto e questo io vi dico insomma ragazzi anche per oggi tutte le news del giorno io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao grazie a tutti